Un caro saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori e benvenuti a questo nuovo episodio di Fuori dalle bolle, il podcast che non parla di cose che non conosce, creato da Francesco Ambrosino e Federico Simonetti. La nostra ospite di oggi è nata in Calabria e cresciuta in Piemonte, ma poco importa, quando parla non riesci comunque a capire di dove sia. È una delle voci di Radio R101 dove conduce una trasmissione dal lunedì a venerdì dalle 20 alle 24. Signore e signori, diamo il benvenuto a Emanuela Maisano. È tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Ne dovevo approfittare perché poi quando mi ricapita, grazie Emanuela di essere qui con noi, con me, purtroppo perché Federico ha avuto un impegno dell'ultimo minuto in azienda e quindi non ha detto vai tu, tanto sei quello bravo della coppia, vai tu. E quindi la presentazione è bellissima per abbassare un attimino il livello perché non vorrei che poi chi ci segue si abituasse male. Mando la sigla che invece prepara settimanalmente Federico, che fa cagare e quindi abbassiamo un pochettino. Francesco Ambrosino e Federico Simonetti presentano Fuori dalle bolle, il podcast che non parla di cose che non conosce. Eccoci qua, così adesso siamo di nuovo livellati e non abbiamo questi grandi problemi. Grazie Emanuela di essere qui con me oggi per questo nuovo episodio, l'ottavo della nostra serie regolare di Fuori dalle bolle, un podcast che noi abbiamo creato per consentirci di sfruttare gli ospiti per imparare qualcosa. Essenzialmente quello è il motivo per il quale, però cerchiamo degli ospiti che ne sappiano qualcosa su dei temi in particolare. Tu sei una speaker radiofonica ma in realtà sei anche una content creator, ti occupi anche di social media ed è il motivo per il quale poi tra l'altro ci conosciamo virtualmente da qualche anno. E prendendo lo spunto dal titolo della puntata che è, ma se devo masticare con la bocca chiusa, come faccio a parlare, come mangio? E dai vocali che ci siamo mandati per organizzare la puntata, la mia domanda è, ma tu parli mai come mangi? Perché quando ci siamo sentiti via vocale io mi aspettavo il jingle pubblicitario e la canzone pop del momento, cioè era proprio radio. pura. Ti capita quando parli con i tuoi genitori, amici, parenti, eccetera, di parlare non so, in dialetto o in qualche modo meno pulito? Allora, guarda, c'è dentro un mondo in questa domanda e di conseguenza nella risposta perché innanzitutto, come mi hai fatto dire nella mia presentazione, innanzitutto ti ringrazio, ho la prima volta in vita mia che mi capita di presentarmi in terza persona. Io sono cresciuta in Calabria, perdona, nata in Calabria, cresciuta in Piemonte, ho vissuto in diversi posti in giro per l'Italia. Anche le persone che ho avuto vicino, le persone importanti per me nella mia vita, hanno avuto origini differenti da diverse zone dell'Italia e tutto questo ha contaminato, non già quando ero adulta, ma sin da bimba, il mio modo di sentire parlare e di conseguenza poi di parlare. E quindi ti posso dire che conosco e capisco il dialetto calabrese, che è quello della mia zona natia, intendo poco poco il dialetto piemontese. se li parlo però sembro una scema, questa è una cosa importante da dire, capito? Cioè sembro, quando per esempio tento, non parlo mai calabrese con i miei genitori, neanche con i miei nonni, neanche quando vado giù a trovare tutta la mia famiglia, perché mi sembra di prenderli in giro, perché lo parlo perfettamente, ma lo parlo come se stessi su un palco di stand-up comedian e stessi sfottendo i calabresi, quale io sono. Come quando noi parliamo in inglese e ci ascoltano gli inglesi, noi pensiamo di essere arpi e loro dicono, vabbè questo è italiano, proprio subito. Però tu non sei una di quelle persone come, ad esempio il mio fratello aveva questa cosa quando da ragazzini andavamo in vacanza al mare e ovviamente quando vai fuori conosci il ragazzo di Roma, quello di Varese, quello di Canicattia, cioè noi stiamo tutti quanti insieme. Il mio fratello dopo tre giorni prendeva la cadenza di uno di quelli con cui se la faceva di più e e quindi frequentava di più e iniziava a parlare toscano, romano, cioè con la cadenza, eccetera. Tu no invece, tu nonostante le influenze resti su questo registro molto molto pulito, però che immagino sia frutto anche di uno studio, perché la voce radiofonica nessuno ci nasce, no? Con la voce o da doppiatura, cioè bisogna fare esercizi di respirazione, diaframma, tutte quelle cose lì. Tu hai fatto un percorso o sei autodidatta? Allora, a me capita quello che capita a tuo fratello. Mi capita ma poi non mi rimane, capito? Di base mi capita ma poi non mi rimane. Quindi anch'io, gli stessi miei colleghi, io ho una collega donarista di Torino che ogni tanto prendo in giro, che parla un po' così, capito? Quindi cambio in continuazione. Però quello mi piace per divertimento, dopo di che il mio modo di parlare è questo. Ritorno su, mi perdo, ti rispondo con dialetti diversi e mi perdo. Ecco, una cosa è stata importantissima a proposito di ascolto. Io non ho... La radio è arrivata nella mia vita senza che io la cercassi e dopo di che me ne sono innamorata da ragazzina. Ho ascoltato passivamente, quindi senza rendermi conto che ne stavo apprendendo qualcosa. E poi attivamente per moltissimi anni quella che per me è, io la definisco un po' la Linus al femminile, Rosaria Renna, che attualmente è a Radio Montecarlo ed è stata per molti anni a RDS. Mi sono resa conto poi, dopo tanti anni, che Rosaria in qualche modo aveva fruito sul mio modo di esprimermi perché a me piaceva talmente tanto che mi sono detto, neanche me lo sono detta, lo sognavo senza raccontarmelo. Quanto è bello parlare come lei e forse automaticamente qualche piccola sfumatura verso quella direzione ho voluto metterla. Non ho mai studiato né edizione e né utilizzo della voce. Inizialmente perché non avevo un quattrino quando ho iniziato a fare radio e sono corsi costosi e quindi non riuscivo, anche perché dovevo pagarmi l'università, dovevo pagarmi cose all'epoca che pensavo più importanti, che poi alla fine lo sono. E poi perché in un secondo momento ti confesso che proprio qualche anno fa, due o tre anni fa, sono andata a risolvere, a completare la mia parte di studi proprio al CTA, che è un famoso centro di teatro qui a Milano per fare edizione, interpretazione eccetera e la professoressa mi ha detto io non te lo posso far fare perché tu la edizione ce l'hai e ti farei pagare inutilmente. Ecco e questo è stato il percorso. Ah ok, quindi ce l'hai naturale, un po' per imitazione diciamo dei due modelli di riferimento e un po' perché probabilmente nella vita magari hai sempre parlato in italiano e avevo usato poco il dialetto nella vita quotidiana, poi il fatto di aver vissuto fuori dal tuo ambito regionale per molti anni, adesso se ho ben capito lavori e vivi a Milano, quindi che è un croceria di calabresi soprattutto. Non ci sono più milanesi a Milano. Non ci sono mai stati milanesi a Milano, se ho detto di Renato Pozzetto non c'è stato nessuno. Senti ma questa cosa della voce radiofonica, ora che sia dopo un percorso di studi e quindi voluta o come è capitato a te che c'è arrivata per evoluzione naturale, non rischia in qualche modo di compromettere o un po' soffocare poi la personalità della speaker perché ci sono, sai, nella musica uno cerca il timbro particolare, la voce particolare, quelle voci pop nazional popolare italiane di una volta ormai non ci piacciono più o ci piacciono meno. Tu la vivi questa cosa del mestiere? Se tu accendi la radio e senti una tua collega che è simile, diciamo, per impostazione a un'altra collega ancora, poi come riconosci la personalità se non dalla voce, che la radio è solo quello, insomma? Questa è una paranoia che mi porto dietro da tanto. Poi più vai avanti lavorativamente, quindi appunto magari arrivi al network nazionale e più il problema si crea perché il discorso della riconoscibilità come c'è sui social c'è una vita anche in radio. La risposta che mi do è che non potrei essere diversamente. Cioè se la vita per me ha voluto questo, se tutto quello che mi è capitato mi è capitato e mi ha portato qui, se ti dovessi parlare da Novarese sarei forzata, se ti dovessi parlare da Calabrese sarei forzata, sarei forzata al contrario. Quindi questo forse è il motivo per cui anche lì inconsciamente, senza aver creato delle strategie o delle tecniche, punto tantissimo sulle sfumature della voce, non della cadenza della voce. Quindi l'ascoltatore se sente, non so se mi riconosce, di sicuro sta sentendo se quella persona oggi ha un velo di tristezza, se è allegra, se è rilassata oppure se è tesa e tantissimo sul contenuto. Spesso mi arrivano dei feedback delle persone che mi dicono, mi sono sentito sollevato da quello che hai detto e quindi poi magari cominciano a sceglierti, magari lì per lì non ti riconoscono, magari sì, non riesco a capirlo questo, ma lo sentono quando sentono la vicinanza, il calore che do in onda, che c'è in onda. Quindi in qualche modo la personalità passa dall'intenzione che hai in quel momento quando leggi il testo o semplicemente parli? Perché un po' di tempo fa, in una intervista di un tuo collega molto illustre, che è Alessandro Cattelan, lui diceva che lui ha tutte le caratteristiche sbagliate per fare radio, perché parla troppo veloce, non sa respirare e tende a lavorare probabilmente troppo su quello che sta dicendo e non su come lo sta dicendo. Magari in televisione funziona e in radio ha dovuto un pochettino forzarsi e violentarsi. Nella musica invece c'è un lavoro proprio in quel senso, cioè più l'artista è riconoscibile dalla voce, più riesci a riconoscerlo appunto quando passa il brano, non solo perché usa magari quelle tre note, come può essere per Ligabue o qualcun altro, però perché c'ha quella voce lì. Invece in radio la sensazione di me ascoltatore è che per fare quel mestiere devi pulire un po' da tutte queste cose. È solo una sensazione nostra che ascoltiamo o è proprio un requisito, diciamo che se tu vuoi fare radio o a livello nazionale o a livello locale, quello che ti viene chiesto, non so se si fanno i colloqui, i provini, quello che sia, è togli la cadenza, togli questo, togli quest'altro. Ti viene proprio chiesto? Dipende dall'emittente, dipende dalla radio. È caratteristica di ogni direzione artistica a scegliere poi, se tu hai fatto l'esempio di DJ con Cattern, DJ è per me la radio italiana in questo momento di personaggi, oltre che come si dice la radio parlata, non so se hai mai sentito parlare della differenza radio di flusso e radio parlata, quindi... Sì, non so qual è la differenza, magari se ce lo spieghi ci fai anche una cortesia, però sì, ne ho sentito parlare. Radio di flusso dovrebbe essere quella che di fatto è tra una canzone e l'altra, la radio parlata è quella con più contenuti, se ho ben capito. Esatto, esatto, anche in termini proprio di tempo, non solo di scelte, di programmi, eccetera. La radio parlata, da radio 24 alla radio DJ a 105, è diversa da una radio di flusso come la nostra, 101, come RDS o come tante altre, interventi brevi, il flusso della voce che si mischia al flusso della musica e quindi un altro, proprio un'altra scelta di accompagnamento. E quindi ecco, la direzione artistica in quel senso poi sceglie quello che vuole. Il direttore dice io voglio pulizia di voce, io voglio edizione, io voglio impostarla così e allora tu mi stai bene. Se invece dice, che poi in realtà vedi nel mio caso, ecco, probabilmente se DJ dovesse identificare poca personalità per la mia pulizia, evidentemente io non sarò fatta per DJ, per quel tipo di, come hai detto tu, di accenti, di voce, di sporcatura, eccetera, su cui loro puntano, ecco, questo. Quindi dipende dalle scelte artistiche. In quel caso cercano più il, come dire, il presentatore rispetto allo speaker, perché magari sono anche due professioni differenti. Quindi questa è cosa interessante perché io ne avevo solo sentito parlare di radio di flusso, ma non avevo la più palle d'idea poi nel concreto di cosa fosse. In questi ultimi anni, in realtà diciamo negli ultimi eventi, dai, il Digitale ha modificato la musica, ricordo da ragazzino, quando scaricavo le canzoni, tanto me lo posso dire, chi se ne frega, c'è la prescrizione da Napster. E mi ricordo anche con quella connessione, cioè praticamente io la mettevo a scaricare, e nel frattempo mi andavo a fare la doccia, poi uscivo e mi trovavo la canzone. Ci voleva un quarto d'ora per scaricare una canzone. Poi negli ultimi anni sono arrivati, soprattutto Spotify, diciamo, ma non solo, anche le altre, che hanno modificato il nostro modo di fruire la musica, che magari è anche un po' più passiva, perché mettiamo la playlist che l'argotitmo ci ha strutturato, l'ascoltiamo. A me piace molto perché mi fa scoprire altra roba, però immagino che questo abbia cambiato un po' il modo di fare radio, o perlomeno nella selezione dell'artista, o nel modo di sviluppare le puntate, che magari hanno un filo tematico anche solo da un punto di vista musicale. C'è stato, secondo te, una piccola rivoluzione, o vi siete semplicemente assestati su un cambiamento di costume, in qualche modo? Tu intendi il modo di fare radio, ovvero la paura di perdere ascoltatori, perché con più facilità di ricerca musicale su Spotify c'è meno interesse ad accendere la radio? Intendi questo? No, quello no, perché credo che chi ascolta la radio e ama ascoltare la radio non si fa sostituire, diciamo, dall'altro strumento. Dico, visto che oggi siamo abituati ad ascoltare, noi una volta mettevamo il CD, lo ascoltavamo dalla prima all'ultima traccia, quando volevamo ascoltare delle canzoni che non avevamo in casa, accendevamo la radio, ok? Invece adesso tu questo problema non ce l'hai. Se vuoi sentire anche musica che non conosci, acce metti Spotify. Dico proprio nella scelta della scaletta musicale di un programma, di una trasmissione, oltre al classico brano radiofonico, non ho mai capito che cosa vuol dire, vi influenza un algoritmo, avete anche voi una strumentazione tecnologica per creare il vostro flusso, insomma, se questo è cambiato. Il lato tecnico. Sì, 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 sì. Allora, il lato tecnico in realtà è una cosa che nei grandi network viene gestito, salvo casi particolarissimi, da un ufficio preposto con una serie di persone esperte, che è proprio l'ufficio musica. Quindi loro, coadiuvati, in questo caso da, non so se chiamarlo, non so se sia un algoritmo, ma comunque un filtro, uno strumento digitale, che filtra in base anche lì alle preferenze della direzione artistica, la scelta musicale, gli addetti all'ufficio ogni giorno fanno una selezione, creano la scaletta day by day. Ci sono ancora dei programmi, pochi devo dire, in Italia, in cui lo speaker ha la possibilità di scegliere i brani, perché probabilmente questa è una cosa che ancora non viene tanto percepita, forse da ascoltatori tipo mia madre. Infatti, chi le sceglie le canzoni? Questa domanda me la sono sempre posta. Io mi sono accordata, soprattutto con questa nuova collocazione oraria, con l'ufficio musica, sulla scelta di, in un'ora particolare delle mie quattro che faccio, di un paio di dischi di cui mi va di parlare, proprio come approfondimento musicale, che quindi esulano da quelle che sarebbero le loro scelte, ma che vanno a centrare proprio quell'artista, quella canzone e la voglia di risentirla per una volta. Certo, che poi immagino, uno pensa che stai schiacciando un bottone, però puoi dire che c'è tutta una burocrazia, diritti d'autore, accordi con le measure, quindi non è che tu puoi pigliare. Io quando facevo web radio da ragazzino all'Arci del mio paese, noi avevamo ovviamente tutta musica piratata, perché poi figurate se ci potevamo, però avevamo il nostro database, io prima della puntata mi creavo la mia playlist, su mia scelta e mandavo le canzoni, però io ero, non pagavamo manco un cazzo, chi se ne frega, però nel vostro caso immagino che ci sia una serie, cioè arriva il capo della measure, che io mi immagino sempre questo con il sigaro, e il doppio petto e il fermacavatte dorato, che è il Rolex d'oro, che poi batte il pugno sul bancone, dice voi dovete passare la mia artista e il mio artista, otto volte al giorno, perché altrimenti io vi dovino, vado dall'altra radio, dove esclusiva, cioè ci sono queste dinamiche un po' da film maravitosi, o sono solo nella mente, diciamo, di noi ascoltatori, che non stiamo nel mondo, guarda se lo sapessi spettegolerei volentieri, non l'ho mai chiesto, ma devo dirti la verità, anch'io l'ho ipotizzato, vedendo un po' quello che succede per esempio su Spotify, Spotify oramai si vede tranquillamente che tra, no scusami Spotify, volevo dire TikTok, pensa come li ho confusi, vedi tranquillamente che, capito, l'artista viene pompato, o con i video virali, oppure con altre tecniche, e lì capisci che è una tecnica, una strategia della fisografica, quindi anch'io ipotizzato che ci possa essere qualcosa del genere. Che c'è questo signore di mezza età. Esatto, esatto, con Rolex e tutto il resto. L'immagine è quella, io non riesco a pensare all'altra, anche se poi io conosco dei musicisti, noi lunedì abbiamo intervistato Bebo dello Stato Sociale, e se ci parli ti rendi conto che lui è esattamente come te, con l'unica differenza che lui sta sul palco di Sanremo, perché sa fare il musicista, e tu fai un altro mestiere. Sì. Però l'idea che dietro di lui c'è qualcuno, dietro il quale c'è poi questo signorotto, non riesce a scalfirmela nessuno. Tu fai una trasmissione su 101, di quattro ore, come dicevi, la fascia finale, quella serale, 20-24, quindi sono tante ore di trasmissione, quattro ore sono pesanti, voglio dire, da fare qualunque cosa, ad esempio se facevo otto ore di formazione, dopo otto ore mi dovevano prendere col cucchiaino, perché sto distrutto. Però vuol dire anche, non solo tanto passaggio di musica, nel vostro caso, come dicevi prima, siete una radio di flusso, ma anche tanti contenuti, no, come intermezzo. Quindi, c'è una, quella che si chiama la riunione di redazione, che si fa, su base quotidiana, immagino, essendo la trasmissione quotidiana. Portaci un po' dietro le quinte, dietro il microfono, cosa succede in una riunione di redazione, come si struttura, quali sono le figure coinvolte, come si scelgono le notizie, eccetera, eccetera. Adesso le riunioni, con tutta questa situazione, hanno perso quella parte bella del confronto personale, che per me è fondamentale. Io ho avuto l'occasione di lavorare con e senza autori, ovviamente l'autore deve essere valido, non lo so neanche ricordare, perché sai che poi ciascuna professione, se non ha quello che lavora con estrema passione, con trasporto, eccetera, perde tutto il suo valore. Quindi parliamo di, ecco, di capacità alte, e io sento proprio, nonostante abbia forte dedizione nella preparazione del contenuto, nonostante ci metta un'impronta bella spessa, per quanto mi riguarda, però in volta che lavoro con i miei autori, capisco quanto siano essenziali, perché realizzano esattamente quel brainstorming a cui da sola tu non riesci ad arrivare. E quindi si arriva con una serie di idee che sono le mie di partenza. Io, nonostante lavori la sera, la prima cosa che faccio la mattina, siccome la mente è più fresca per il mio stile di vita, è proprio buttarmi sui contenuti della sera. È la prima cosa che faccio in assoluto. E raccolgo questi contenuti e poi quando ci vediamo digitalmente o fisicamente condividiamo quello che abbiamo pensato, quello che abbiamo trovato. Selezioniamo, facciamo una scrematura e dalla scrematura poi magari continuando a confrontarci nascono quelle singole idee che rendono quell'argomento di cui parlerai ancora più accattivante. Perché c'è sempre, tu lo sai, lavorando con i contenuti, la differenza la fa la virgola. A volte stiamo con l'autore a ragionare 20 minuti su come porre la domanda da fare per mandare le note vocali al numero della diretta perché la radio è talmente veloce ed è un ascolto talmente tanto distratto come è normale che sia perché si fa facendo altro che devi essere capace di individuare la parolina giusta che entri nella testa dell'ascoltatore che gli faccia scattare la voglia di pensare a quello di cui stai parlando e magari di interagire. Quindi questo è proprio il lavoro di fino. Si parte da una raccolta grossa e poi si va di fino. Ecco, questo è il grosso. Dopodiché arrivano le poste invece proprio dalla redazione o anche dalla parte più giornalistica degli ospiti che verranno in onda telefonicamente o via Skype o in diretta che spaziano da scrittori. Ieri ho registrato un'intervista di Luca Ward che è una cosa ci ho lasciato il cuore proprio il cuore perché ha pubblicato il libro quindi era per la promozione del libro e immagino stamattina quel bastardo non so se hai visto bastardo in senso ovviamente affettuoso pubblicato su Twitter o su Facebook come non ricordo ha scritto hanno deciso di ridoppiare il gladiatore e la gente sotto centinaia di commenti prima che qualcuno dicesse guardate che oggi è il primo aprile non so se hai fatto però effettivamente era un colpo a me non piace quel film però se me lo ridoppiano senza Luca Ward già non me lo vedevo diciamo però una cosa che io ho imparato io per formazione mia personale io ho studiato sceneggiatura cinematografica da ragazzo mi sono anche laureato in sceneggiatura in storia del cinema e c'è una cosa che mi hanno insegnato ho fatto un corso da ragazzo durante l'università i docenti erano gente inutile tipo Paolo Sorrentino insomma proprio gentile sì 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 mi insegnarono una cosa molto semplice che nel cinema puoi raccontare solo quello che puoi mostrare ok quindi quando scrivi una sceneggiatura se quello che stai raccontando non hai la possibilità di convertirlo in un'immagine chiara la devi levare perché certo puoi sfruttare la voce fuori campo ma dopo un po' rompe pure le palle invece il radio è esattamente il contrario cioè tu devi costruire un'immagine che non potrai mostrare poi è vero che ormai le trasmissioni radiofoniche vanno anche spesso in diretta video però la radio è la radio diciamo il mezzo principale è la voce e quindi c'è un'altra cosa che mi hanno insegnato sempre in sceneggiatura è che quello che conta è il ritmo che è fondamentale anche nella scrittura questa cosa la sono portata nella scrittura dei contenuti ad esempio in sceneggiatura ogni scena deve durare un minuto tecnicamente dovrebbe essere così e quindi è una pagina a quattro voi avete cioè dovete dare un'importanza enorme a ritmo non solo per tenere diciamo il flusso anche musicale perché se voi ammosciate e poi parte la canzone iper rock e poi vi ammosciate di nuovo ovviamente non va bene però dovete anche rispettare delle tempi che sono molto strette molto stringate perché voi avete il blocco per il contenuto la pubblicità la canzone il fade out di nuovo il blocco eccetera come si lavora? avete proprio una struttura anche tecnologica un software o qualcosa che vi dà dei tempi o avete quello che vi tozzo lei alla spalla per dire guarda che ora arriva il prossimo blocco eccetera non penso guarda questa è molto divertente perché accade un po' di tutto innanzitutto io sono felice di essere approdata in nazionale in una radio come 101 come ti dicevo le radio di flusso perché ti danno un insegnamento di gestione dei tempi e di scelta delle parole da dire perché hai poco tempo eccezionale sono passata da non lo nascondo ma in realtà credo che sia un esercizio che debbano fare tutti all'inizio noi abbiamo quelle che tecnicamente si chiamano rampe che sono dei tappeti musicali delle basi musicali che vanno da una durata di 15 secondi a 18 secondi che sono un giusto intervallo tra la pubblicità il disco sai tu entri e stai dicendo cosa accade e fate o la pubblicità o il disco quindi per dare un po' di movimento io quelle rampe nel primo anno e mezzo tutto sicuramente di 101 me le sono scritte cercavo di leggerle proprio contavo le parole che ci stavano dentro chiaramente con un senso di quello che volevo dire che ci stavano dentro i 15 secondi perché avevo una paura fattuta di ciccarle poi sai bisogna essere precisi la pulizia di audio quindi quello è stato il primo passaggio mi è servito tanto è un allenamento che fai sul campo fino a che non ti diventa talmente naturale che poi come dici tu fai le note vocali e parte il jingle anche su whatsapp capito oramai è così mi è servito molto abbiamo tecnicamente un software non mi ricordo il nome che abbiamo davanti a noi quando scorre tutto quello che accade quindi abbiamo una scaletta digitale a monitor vediamo tutto quello che succede abbiamo un count up e un countdown il countdown ce l'abbiamo per esempio quando vabbè quando esci da una canzone un po' meno a meno che tecnicamente non vogliano che tu entri in quel preciso momento se no la puoi sporcare quando vuoi quando l'impro i famosi intro delle canzoni soprattutto quelli storici Queen Michael Jackson eccetera sono segnati anche in quel caso c'è un countdown preciso ma mi hai fatto pensare a una cosa e quindi adesso è tutto molto più semplice se vuoi perché anche se non vai a orecchio vedi che sta per finire c'hai un alert certo quando smetti di parlare se tu poi vuoi spiegare cos'è l'intro rispetto a una canzone eccetera fallo tu io intanto ti racconto questa netta no 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 tu spiega tutto perché il nostro approccio è quello di spiegare le cose come se fossimo dei bambini di quattro anni sempre perché l'obiettivo è di spiegare le cose e farle spiegare poi a chi è del mestiere non a me né a Federico quando c'è anche lui io ogni tanto do per scontato delle cose allora ti dico due cose velocissime quando si parla di intro si parla di che ne so prendi davvero We Will Rock You dei Queen e mi stavo pensando la stessa cosa ma no è perché la intro perfetta cioè a parte quella di Sartans Housewing che però conoscono in meno persone We Will Rock You è proprio la intro a cui uno pensa quindi la intro senti tu tu no finché non attacca il cantato quello è l'intro di una canzone sul quale uno speaker alla radio parla dando la carica giusta in attesa che parta il cantato magari raccontando qualcosa magari finendo il suo discorso quello che vuole lo speaker quando esattamente quando finisce lo strumentale inizia il cantato deve zittirsi qualsiasi cosa abbia detto non può dire niente ok e quindi quello ecco quello è il famoso infatti questa è una cosa che mi ha sempre incuriosito perché capita poi sicuramente sarà come dire scritto e deciso a monte però capita qualche volta che il brano viene appunto interrotto o all'inizio che ci parla sopra lo speaker e poi parte il brano o verso la fine che sugli ultimi secondi tipo e io quando ero ragazzino e mi dovevo registrare la canzone in radio che era appena uscita sai col play rec eccetera poi ovviamente smadonnavo tutto il calendario perché quello mi ci aveva parlato sopra e io c'avevo il brano con questo che mi ci parla sopra ma lascia stare che poi magari è strutturato in modo tale che sia così ma non è mai arrivato un artista a dire tu sulla mia canzone non ci parli perché la prima nota e l'ultima nota sono più importanti della tua voce cioè non la devi rovinare non la devi sporcare può capitare che ci sono dei brani sui quali tu non puoi mettere la propria voce non ti è mai capitato cioè nel senso della tua capire bravo nel mio percorso non mi è mai capitato non fatico a pensare che in radio ancora più attente alla musica non che la mia non lo sia ma proprio all'approfondimento musicale come che ne so Radio Capital Virgin Radio magari o altre ok l'artista sia arrivato può essere può essere e invece no l'altra cosa che ti volevo dire a parte questa che è sempre molto simpatica da raccontare a chi non non conosce il mondo in retroscena proprio di recente io sentivo parlare io sono nata nel 1984 quindi ovviamente la radio anni 80 non l'ho non l'ho vissuta me l'hanno raccontata e ultimamente forse ricorreva l'anniversario della morte non so qualcosa di importante legato al leopardo che è uno super osannato uno dei primi speaker radiofonici italiani quando è nata quando è nata la radio e io dicevo Leopardo Leopardo ne sentivo parlare ma non sapevo molto e allora di recente sono andata a vedermi qualche a sentire a vedere qualcosina che aveva fatto Leopardo nella sua radio anni 80 credo che fosse Radio Milano International dove ha esordito la prima radio commerciale e ho avvertito una cosa che mi ha fatto molto ridere ma che in quei tempi era bellissima se la fai oggi sembri un cretino la cosa è la seguente non essendoci ovviamente tutti gli strumenti digitali oggi il countdown dell'intro eccetera Leopardo quando ha un disco lui sceglieva i dischi americani era uno dei primi che ha portato la musica internazionale nelle radio italiane c'era l'intro percepiva a orecchio quando stava per partire il cantante ma per beccare il momento giusto faceva delle cose tipo ebbene siamo qui siamo qui siamo qui ci siete siamo qui continuava a fare questa cosa attendendo che iniziasse il disco da villaggio turistico praticamente se tu all'epoca era una cosa super innovativa ehi 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 ci siete ragazzi no era super innovativa era novità era quella cosa diversa se la fai oggi stai scimmiottando uno speaker degli anni 80 non ha più senso però mi ha fatto rire perché visto Leopardo come prendeva l'intro lui faceva ehi 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 queste cose qui eh va bene gli anni 80 spensierati anni 80 tu hai come ho accennato all'inizio sei una speaker radiofonica ma ti occupi ti sei occupata nella tua carriera professionale anche di social media marketing content marketing e eh dopo questa registrazione hai una 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 live su su clubhouse quindi sei ancora molto attiva anche su tiktok anche su instagram eccetera si parla ormai con l'avvento di clubhouse un po' di più ma è verità già da qualche anno che il futuro dei social è la voce clubhouse è solo una adesso è arrivato twitter spaces e ne arriveranno altre però qualche anno fa credo ormai 4 o 5 anni fa Facebook aveva lanciato in beta le live audio e ricordo che all'epoca in beta Fiorello forse faceva una trasmissione live su Facebook solo audio che però poi è morta perché c'è un problema di base non puoi moderare il contenuto audio il vice la piattaforma non lo può moderare cosa ne pensi tu di questa cosa che è il futuro dei social e l'audio e quali limiti ci vedi perché ce ne vedi parecchie ad esempio il fatto che clubhouse è asincrono e non rimane una registrazione e quindi chi vuole fare podcasting ad esempio è un grande gruppo whatsapp in realtà per adesso però tu che lo utilizzi anche che cosa ci racconti di questa evoluzione della voce lato social dal mio punto di vista e dal ruolo che ricopro in realtà inizialmente non ti posso nascondere che secondo me è una domanda che si sono fatti tutti è un dubbio che abbiamo tutti che fine potrà fare il mondo del radio speaker radiofonico con un futuro come questo e questo non te lo so dire probabilmente si digitalizzerà ma poi in qualche modo lo stampo radiofonico magari con strumenti diversi rimarrà ne sono sempre più sicura per una ragione poi magari non si chiamerà più radio magari si chiamerà un'altra cosa ma la figura di chi oggi è conduttore radio fa la differenza e lo sto vivendo per una ragione particolare ero molto curiosa quando ho iniziato a usarlo e ho notato subito una cosa che se sei capace di moderare tenere l'hype come si dice lanciare contenuti tenere alta l'attenzione allora tu quello lo puoi fare dove ti pare non è neanche più un discorso di voce come ci dicevamo all'inizio di cadenza di sfumature è proprio capacità se tu sei portato per condurre articolare approfondire raccontare puoi usare il metodo che vuoi podcast clubhouse facebook audio quello che ti pare se non lo sei lo vedi subito e il seguito è il seguito delle persone come te e allora come dici tu può essere una grande chat collettiva di whatsapp quindi io credo che questi strumenti creino una scrematura fortissima su chi le capacità di fare comunicazione audio ce l'ha e chi no questo è interessante questo sicuramente nel senso che poi il successo di una room di clubhouse sta nella nella capacità di moderare poi ci sono degli strumenti diciamo che ti consentono di gestire chi deve parlare chi non deve parlare però quello che parla sempre deve riuscire a non far addormentare tutti gli altri però c'è anche il problema che tu non ti senti realmente attivo in una room di clubhouse dove stanno 500 persone e poi ne parlano 3 e quindi il fatto che tu la devi ascoltare solo in quel momento non la puoi ascoltare in un secondo momento nonostante tu non possa in qualche modo intervenire perché tanto si è stabilito che parlano quelli lì questo me l'ha fatto un pochettino mi ha fatto passare la voglia rispetto all'inizio poi ho un altro problema diciamo io non posso mettermi a qualunque ora a seguire la live no ma anche fuori dall'orario di lavoro cioè io ho 3 figli proprio se dire aspetta perché invece con i podcast io me li guardo o in macchina cioè me li ascolto in macchina quando vado avanti e indietro oppure mentre lavo i piatti no quando cucino però è una registrazione quindi io metto pausa se viene mio figlio mia figlia aspetta un attimo se apro l'acqua e non sento posso mettere pausa invece con clubhouse devi stare lì e devi fare solo quello e questo per me è un grande problema è un limite sì io credo che arriveranno gli aggiornamenti credo che stiano lavorando forse tu me lo saprai dire alla possibilità di registrare quindi ci sarà devono lavorare anche sul comunicarlo a livello di privacy alle persone che entrano nella stanza quindi stanno facendo questo percorso e comunque sì la tecnica che sto utilizzando io a parte che tengo delle room molto brevi massimo 30 minuti lo dico sempre alla stessa ora così si sa la cosa che mi piace fare ovviamente lo sai facendo radio potrei parlare da sola per 30 minuti ma non è l'interesse che ho su clubhouse e quindi in quel caso sto coinvolgendo tutti nelle mie room parlano tutti a turno esattamente come le do connessi con i loro profili ok in maniera molto dinamica e si struttura proprio un contenuto grazie a porto di tutti quello è quello che mi interessa altrimenti come dici tu diventa un podcast allora meglio il podcast allora meglio il podcast cosa ne pensi tu dei podcast che sono in qualche modo un'evoluzione per certi versi dell'attività radiofonica per lo meno della parte parlata la parte musicale poi è un casino perché ci stanno i diritti ed è difficile da gestire tu sei attratta dal fare un podcast per le interviste io ho sempre amato le interviste le hit show e cose del genere che in Italia non si fanno quando le ha fatte qualcuno tipo Luttazzi era per una questione di satira poi purtroppo l'hanno depurato adesso per fortuna abbiamo Cattelan però le cose più interessanti io ormai le vedo sul web cioè Kashmir guardo Ferrari che mi fa morire dalle risate ti piace il mondo il mondo dei podcast ti piacerebbe farlo se sì quali secondo te sarebbero le modalità più affini a te insomma al di là ovviamente della musica io il mondo del podcast lo adoro e dal lato un po' lo temo semplicemente come creator lo adoro perché lo utilizzo lo ne usufruisco talmente tanto che spesso prendo spunto da argomenti che poi porto in onda per creare il confronto e mi piace di tutto mi piacciono beh principalmente le storie di vita ho amato Morgana immaginavo però anche podcast tecnicamente fatti male perché magari vengono estrapolati da lezioni dal vivo tipo il prof Alessandro Barbero quanto lo amo adorabile quanto lo amo e quindi mi piace molto lo temo perché ci vuole tanto lavoro per fare a meno che appunto tu non sei in giro per a fare lezione ti prendono la registrazione la caricano e tu sei tranquillo altrimenti ci vuole Morgana è fatto benissimo c'è un grande lavoro dietro tu lo puoi immaginare di scrittura di registrazione di post produzione hanno fatto anche il libro è uscito da poco c'era mia moglie Sara che l'ha ricevuto c'è i sogli script alla fine di quello che lei dice in puntata però sì c'è scrittura proprio dietro è tosto e da realizzatrice di tutti audio perché poi io in realtà leggo audiolibri faccio tu mi hai presa in giro ma io faccio spot faccio jingle tutto quello che capita no? e sono molto emoziosa poi sul risultato finale quindi sogno di fare un podcast nella fattispecie sogno io amo intervistare quindi stai il mio programma della vita che sia radio che sia tv che non mi dispiace come idea è un programma di interviste alla Ellen DeGeneres alla Oprah Winfrey come vedi un passo diciamo che mi accontento di poco mi piace anche a me ma anche perché io questa cosa probabilmente è iniziata quando ero ragazzino e in casa mia per fortuna sono sempre stati molti libri però anche giornali e riviste tantissimi forse troppe nel senso che mio padre faceva le pile eccetera e io ricordo che se c'era un'intervista in un settimanale o sul giornale il Corriere la Repubblica eccetera io quella lì me la leggevo a prescindere dal personaggio intervistato perché secondo me quando fai parlare due persone qualcosa di interessante viene fuori soprattutto poi se sono delle persone straordinarie scrittori cineasti musicisti eccetera e poi sono anche un po' stanco personalmente della caciata cioè di quando metti sette otto persone a parlare e litigano tutti quanti e il tempo che loro possono parlare è molto molto limitato invece i talk show quelli stile americano che tu menzionavi o alla Letterman eccetera tu metti lì quanto c'hai cinque minuti di blocco per farlo parlare però è una chiacchierata ed è molto più bello molto più rilassante Emanuella io ti ti voglio lasciare però sfruttando la tua presenza l'ho fatto all'inizio lo faccio anche alla fine e quindi visto che tu sei una professionista della voce dacci a me Federico poi gliela riporterò dacci tre consigli per migliorare il nostro modo di fare podcast insomma che è molto amatoriale però giusto per migliorare un pochettino la Air Emotion non riesco a togliermela però magari su altre cose posso parlare posso lavorare ma sai che andate benissimo partiamo da questo presupposto andate benissimo e secondo me funziona per la spontaneità guarda prima sorridevo nel leggere la presentazione che ti hai fatto fare all'inizio perché automaticamente quando leggi quel tipo di presentazione ti viene da fare un po' non ricordo il cognome Nicoletta Orsomanno Orsomandi come si chiamava quella che lanciava annuncio di cerari esatto sì mi perdonerà mi perdonerà non me lo ricordo ti viene da fare un po' signori e signori buonasera ok quindi prima cosa assolutamente no ma già non lo fate per quello che andate bene no voci impostate no voci pensate e cose del genere seconda cosa ma vedo che vedi non c'ho niente da dirti per migliorarlo siamo troppo bravi siamo troppo bravi lo fai lo fai è bello riportare esattamente come fare una conversazione tra amici al bar quando vedi che la cosa sta andando per me sta scemando sta diventando tecnica è bello vedere qualcuno che la mette sorridere che spiega in maniera più popolare cosa sta accadendo che cambia discorso è la spontaneità di questi tempi soprattutto con la voce e se si andrà avanti digitalmente con la voce la spontaneità proprio la genuinità di quello che ti esce dalle corde vocali è tutto non serve altro e poi vabbè è ovvio che perché accade che una cosa viene fatta bene io mi ricorderò sempre ho seguito il tour di Luca Bete un paio d'anni fa tre anni fa forse ha fatto un bellissimo percorso per motivare e ispirare i ragazzi nelle scuole e nelle università si chiamava non ci ferma nessuno ok e ricordo che in uno dei suoi ci portava come testimonianze di vita eccetera e ricordo che in uno dei suoi discorsi i ragazzi disse una cosa semplicissima che potrebbe dire mia nonna che potrebbe dire chiunque fai le cose per bene se tu hai la sensazione di averlo fatto per bene non ti serve altro viene il brivido quando ci penso perché dico ma tu quando inizi a fare un lavoro qualsiasi lavoro tu faccia te lo chiedi io ho sempre questa la domanda me la faccio sempre poi a fine puntata mi dico ma l'avrò fatto tutto potete fare meglio sì però parti con l'idea di fare le cose bene ogni tanto dovremmo pensarci fermarci dircelo verificare se lo stiamo facendo e poi continuare e voi lo state facendo mi consenta è certo è certo noi siamo siamo perfetti così nella nostra imperfezione noi abbiamo creato questo progetto a parte perché di solito io e Federico noi ci conosciamo da una vita io e Federico avevamo 18 anni quindi da 18 anni ci conosciamo lui è stato il mio attore feticcio quando io facevo i cortometraggi da ragazzo io ero scorsese e lui era di capo abbiamo la stessa qualità ovviamente però abbiamo uno stesso background socio-economico locale perché siamo della stessa zona paesi vicini però due vite diverse per certi due opinioni spesso opposte noi siamo molto di sinistra io molto meno eccetera quindi noi discutiamo discutiamo però senza mai litigare e questa è una cosa che mi è sempre piaciuta perché c'è rispetto reciproco allora ho detto perfetto facciamo un prodotto nel quale noi parliamo e magari litighiamo discutiamo con l'ospite su dei temi però che siano importanti noi ieri abbiamo registrato un'altra puntata che va in onda lunedì prossimo sull'immigrazione che è un tema molto complesso però abbiamo chiamato la portavoce di Open Arms a parlarne non è che ci mettiamo noi a parlarne dovevamo parlare di radio della voce perfetto poi andiamo la professionista che fa la spiga radiofonica e non a Radio Prociutto Zero qua da me insomma ma è una radio nazionale è un po' quello che stiamo cercando di fare far parlare le persone che sanno le cose mettendoci un po' il nostro stile di leggerezza perché altrimenti poi si piomba nella noia e già siamo pieni di contenuti noi osi cerchiamo almeno di non fare quello quindi per chiudere perché sennò annoio io Emanuela grazie mille per essere stato qui con noi dico noi perché l'anima di Federico comunque alleggia su di noi e c'era la sua sigla bellissima all'inizio la puntata andrà in onda su cioè in onda andrà online su YouTube e su Spotify poi ti girerò i link per potertela eventualmente riguardare e riascoltare io saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori perché dobbiamo fare attenzione ci vediamo alla prossima puntata abbiamo in servo ancora alcuni argomenti complicati come la scuola con un sindacalista e la comunità LGBT con due persone che sono due attivisti quindi cercheremo di trattare un po' di temi scottanti però con un po' di leggerezza grazie Emanuela un saluto a tutti ciao 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 grazie ne approfitto solo per dirci una cosa stiamo ancora registrando se voglio raggiungere ai temi io ho visto che ne ho parlato i giorni perché è ancora fresco il tema del catcalling probabilmente ne avete già parlato abbiamo parlato dell'artrospe del mensplaining perché abbiamo fatto una puntata dedicata alla parità di genere con due nostri amiche e poi abbiamo fatto un'altra puntata con Vera Gheno sulla parità di genere dal punto di vista linguistico catcalling è stato adesso Aurora Ramazzotti ne ha parlato riportato in Auge ne ho parlato in radio è successo un periferio posso immaginare però va trattato e quindi siccome hai citato temi importanti da ultimo era venuto fuori questo e niente fa sempre piacere confrontarsi io e chiudo con questo con la polemica ti chiudo ti è sì vai ho letto dei messaggi che ci sono arrivati in radio e anche delle note vocali che non ho passato in basanti e con questo chiudo chiudiamo queste persone secondo me meritano vabbè lasciamo stare ma è meglio però grazie a te è stato veramente molto bello ti ringrazio per la disponibilità perché sei piena di giustamente impegni abbiamo trovato un momento per incastrare questa registrazione mi fa molto 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 piacere che ci siamo riusciti quindi un bacione buona Pasqua perché tra qualche giorno è Pasqua però la puntata andrà online che già sarà passata la Pasqua quindi buona festa della mamma mi sa perché ci ritroveremo più o meno in quel momento e un abbraccio a tutti grazie mille ciao